La partita con la Paganese abbiamo subito un tiro in mezzo e la difesa sotto accusa eccetera eccetera. Con l'Avellino la stessa cosa, l'allenatore da manda via. Lasciateci lavorare, è impossibile lavorare così, perché prima di cominciare il campionato, se già cominciamo con le polemiche, per me non possiamo andare avanti. Lasciateci lavorare, perché noi vogliamo arrivare all'obiettivo che è la Serie B. Ci ha pensato Valerio Di Cesare a mettere i puntini sulle I dopo la partenza con i tre punti del Bari nel campionato di Serie C. Al fischio finale della partita vinta per 2-0 sul malmesso campo di Lentini contro la Sicula Leonzio, il capitano bianco-rosso si è concesso un breve ma intenso sfogo. Nel mirino le critiche eccessive, secondo il centrale 36enne, arrivate all'indirizzo di squadra e allenatore dopo il K.O. di Coppa Italia, maturato ad Avellino una settimana prima, è costato l'eliminazione dalla competizione. Il Bari ha risposto sul campo vincendo con una prova concreta contro i bianconeri di Vito Grieco. Decisive le firme di due attaccanti, Mirko Antenucci dal dischetto nel primo tempo e Eugenio Dursi in contropiede nel finale. Un po' di difficoltà a livello fisico si è vista in alcuni giocatori soprattutto, quindi tendi chiaramente ad abbassarti un pochetto però mi sembra che tutto sommato non sia rischiato, a parte una parata bellissima di frattali, abbiamo portato a casa un risultato che probabilmente sia giusto. Vincere pur senza brillare, soprattutto ad agosto con le rose in pieno rodaggio, è un compromesso che può valere oro. In particolare in un girone C che ha visto il Catania e la Ternana, altre attese protagoniste, mettere subito le cose in chiaro. I siciliani hanno rifilato sei reti in trasferta a Avellino, gli Umbri sono partiti con un 3-1 sul campo del Rieti. È normale che quest'anno forse faremo un pochino di un po' più fatica, nel senso che potremo subire qualche gol in più, nel senso perché vogliamo andare a giocare in avanti quindi potremmo rischiare qualcosa di oro ma non è un problema, l'importante è vincere e cercare di ottenere il risultato, sarà difficile. Il prossimo impegno sarà quello casalingo di domenica 1 settembre quando al San Nicola arriverà la Viterbese. Nel mezzo ci sarà spazio anche per il calciomercato, il Bari si prepara a salutare il centrocampista Andrea Feola vicino alla recessione. Il Casarano nel girone H di Serie D lo attende. Cornacchini aspetta un innesto in mediana ma intanto si concentra solo sul campo con una filosofia ben precisa. Poi alla fine i risultati sono quelli che contano, quindi ripeto io sono felice di essere molto pratico. Molto pratico e la mia squadra da quel punto di vista lì è pratica e mi segue abbastanza bene.